Ragazzi buongiorno, oggi sono qua domenica e ci teniamo a fare questo video innanzitutto per augurarvi la buona domenica però cosa è successo? In questi giorni abbiamo lanciato la notizia di questo circuito ufficiale di Calisthenics 2019 in cui ci saranno quattro tappe per qualificarsi o comunque per entrare nel ranking, per entrare in classifica per prendere i punti per riuscire a partecipare poi alle finali del campionato italiano a Rimini Wellness e prendere anche comunque i punti per riuscire poi a partecipare all'International Burning Game Cup abbiamo creato questo circuito di gare facendo un qualcosa un po' di unico in Italia ma anche nel mondo questo perché ci tenavamo veramente tantissimo a far sì che il Calisthenics potesse consolidarsi per diventare sempre più una disciplina sportiva a tutti gli effetti l'avevamo già fatto con le categorie Endurance e Strength e adesso abbiamo voluto farlo anche per la disciplina del Freestyle cosa comporta questo? Comporta da parte nostra tantissimo impegno per riuscire a far fronte a tutte queste gare soprattutto perché sono organizzate ad un certo livello però comporta anche un impegno da parte degli atleti che vorranno partecipare perché lo sappiamo anche noi che in questa fase qua abbiamo deciso di inserire solo quattro tappe perché non avevamo le energie necessarie per fare altre tappe anche in altre zone d'Italia l'invito è comunque a titolari di centri, titolari di palazzetti, imprenditori che abbiano voglia di esportare queste tappe anche in altre città per il 2020 stiamo già lavorando anche per il 2020 e quindi se avete delle richieste potete scriverci alla nostra mail info-burningate.com per fare richiesta soprattutto per valutare se la struttura ha i requisiti necessari per riuscire a diventare una sede ufficiale del circuito nel 2020 però il video di oggi era anche soprattutto per gli atleti perché ho ricevuto una mail di un ragazzo che mi diceva io sono sardo, non ho la possibilità di venire in terraferma a Milano, a Bologna, a Roma per fare le competizioni perché non ho i soldi per pagarmi il biglietto della nave o dell'aereo questo ci sta ed è una obiezione importante che ha fatto in questo caso questo ragazzo o questo atleta però io sono sicuro di una cosa e il video nasce anche per cercare di aiutarvi soprattutto perché vogliamo che in queste tappe ci siano atleti provenienti da tutta Italia abbiamo fatto questo circuito di endurance e strength e abbiamo visto che nella tappa di Torino era pieno di ragazzi che arrivavano da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sardegna è stato veramente un successo incredibile, oltre 120 partecipanti a questa prima tappa e vogliamo così magari non ci sarà lo stesso numero perché gli atleti del freestyle non sono così tanti in Italia però siamo sicuri che il numero sarà elevato e ci saranno sempre più atleti che si sfideranno nella disciplina del calisthenics freestyle perché il livello come abbiamo visto ormai sta salendo tantissimo ma torniamo a rispondere alla domanda che mi ha fatto questo ragazzo che ha difficoltà a muoversi allora dovete trovarvi qualcuno che vi possa supportare non c'è bisogno chissà di quanti soldi poi magari non parteciperete a tutte e quattro le tappe, parteciperete a due tappe avrete i punti poi per qualificarvi, chi lo sa però se il calisthenics è la vostra passione dovete fare di tutto per riuscire a partecipare a queste gare è un palcoscenico che avete incredibile io ho visto in questi anni atleti che grazie al calisthenics hanno trovato il loro lavoro chi è diventato un coach, chi un personal trainer, chi un influencer ce ne sono di esempi tantissimi qua in Italia di ragazzi che grazie alla loro passione per il calisthenics sono riusciti a costruirsi anche una loro figura professionale nell'ambito di questa disciplina come dovete fare per trovarvi uno sponsor beh in prima battuta quello che noi vi consigliamo probabilmente già vi state allenando in un centro di calisthenics e provare ad andare dal titolare di questo centro di calisthenics e chiedergli di pagarvi le spese per partecipare a questo evento le spese non sono alte, ci sarà un biglietto aereo, un biglietto del treno e magari una notte in albergo se cercate in anticipo i treni e gli aerei non sono cifre elevatissime io penso che un titolare di un centro che pratica in particolar modo calisthenics sia più che contento di supportarvi ma per quale motivo? perché probabilmente vi preparerà anche una canotta o una maglietta con i suoi loghi e quello sarà un vanto per il centro di calisthenics perché avere un atleta che gareggia nel circuito ufficiale e magari si piazza anche davanti o magari vince chi lo sa quello che può succedere ma anche se il solo partecipare può essere un vanto per la palestra in cui quell'atleta si allena e funziona così per tutte queste discipline nascenti vedi il crossfit fanno così gli atleti del cross sono supportati dal centro in cui si allenano e vanno a gareggiare nelle varie competizioni in giro per tutta Italia e per tutto il mondo l'idea di partecipare secondo noi è una cosa bellissima può essere un modo di conoscere nuovi appassionati della vostra stessa disciplina può essere un modo per visitare delle città che magari se non avete la possibilità di andare a visitarvi permetterà di girare e fare l'atleta non solo in Italia perché dall'Italia potrete come hanno fatto anche altri andare a girare per le gare che ci sono in giro per il mondo provateli prima battuta il mio consiglio è provare di andare dal centro di calisthenics che è presente nella vostra zona nella vostra città o magari che già vi state allenando e chiedere un supporto non dovete chiedere i soli chiedete esattamente le spese per riuscire ad andare a gareggiare nella tappa che volete andare a partecipare seconda battuta se dove siete voi non ci fosse un centro di calisthenics provate con altre attività lavorative mi viene in mente magari un negozio che fa abbigliamento sportivo o anche un negozio di qualsiasi tipo un negozio di cellulari, elettronica magari anche in quel caso lì dite che farrete preparare una canotta con il suo logo bello in visto visto atleti che in questi anni che gareggiano con il nome di ditte che non sono prettamente sportive però è normale che ci vuole un po' di impegno ci vuole un po' di sacrificio ci vuole anche magari un po' la fortuna di andare a trovare un imprenditore dall'altra parte che abbia voglia di supportare il vostro impegno perché in questa fase qua in cui la disciplina si sta lanciando sta nascendo si sta costruendo è necessario l'impegno un po' di tutti da parte nostra che ci siamo messi in prima persona a fare questo circuito di gare ma anche da parte vostra per riuscire a partecipare ve lo dico veramente con il cuore se riuscirete a partecipare sarà per voi un'esperienza unica soprattutto per chi di voi ha le prime esperienze è importante questo perché quando poi calcherete magari i scenari di un Rimini Wellness di un International Burning Cup aver già partecipato a gare anche di levatura minore sarà importante per chi vi darà esperienza chi ha partecipato per la prima volta a Rimini Wellness sa che arriva nell'Ironlink Arena e le braccia vi tremano da quanta gente c'è lì che urla e che vi applaude veramente ho visto atleti a loro prima esperienza e dopo la competizione mi ha detto cacchio sono entrato e quello che magari in allenamento mi era semplice non era così semplice in gara perché avere la gente che urla che tifa per voi e che comunque è veramente un'emozione unica quindi più gare fatte più sarete preparati anche a eventi di questo genere cercate impegnatevi quello che noi vi abbiamo detto è avete questa prima fase per iscrivervi è gratuito l'iscrizione se riuscirete a farlo entro fine dell'anno dovete compilare il modulo che c'è al link comunque che ve lo rilascio sotto a questo video mandare un video di 60 secondi e da lì andremo a creare un primo ranking ufficiale degli atleti che gareggeranno in questo per un giorno sono già arrivati 20 atleti che hanno già mandato la loro iscrizione e nei prossimi giorni manderanno il loro video dai aspettiamo anche te prova anche se sei lontano da queste prime tappe prova a fare il sacrificio perché stiamo facendo un qualcosa di unico e tutto questo vi permetterà di crescere sia come atleti ma anche come persone siamo una famiglia siamo in tanti appassionati di calisthenics e secondo noi tutti insieme riusciremo a creare un qualcosa di unico al mondo e soprattutto che leverà ancora una volta il calisthenics in Italia come diciamo regno del calisthenics mondiale io spero di vedervi alle prime gare alle prime tappe la prima tappa come avete visto è presto quindi a febbraio allenatevi e con questo vi saluto vi auguro ancora una buona domenica e ci si vede sempre qua sul mio canale ciao ciao